buonasera amici e ben ritrovati a tre minuti con questa sera sono insieme a un uomo un grande uomo uno sportivo e con la sua passione si è elevato e sta levando enormi soddisfazioni è un piacere per me essere insieme a michele peluso ciao michele ciao lolo come stai bene tu sei in forma si dai abbastanza bene allora cominciamo a farti conoscere ai nostri amici che non ti conoscono o a farti conoscere in maniera più profondita quelli che già ti conoscono grazie cominciando con la domanda di rito che è qual è la tua passione e da dove nasce allora la mia passione per il powerlifting per la pesistica nasce praticamente da quando ero bambino io vengo da un piccolo paesino della provincia di messina che si chiama moto da fermo sono cresciuto lì ero un bimbo un po robusto un po un po pienotto e ho iniziato il mio primo sport è stata l'atletica ho iniziato con l'atletica però essendo un bambino abbastanza in carne quindi mi sono spostato poi negli sport un po più di potenza con ho fatto diversi anni nella lotta greco romano fino a esaudire questo sogno che è il powerlifting che sono le alzate di potenza perfetto a che età sei entrato la prima volta in una palestra e a che età hai cominciato a fare la prima gara di powerlifting allora la mia vita è stata sì è stata un po impegnativa nel senso che ho iniziato questo percorso già abbastanza grande perché in sicilia ho fatto dal collegio poi mi sono arruolato sono entrato nel gruppo sportivo diciamo che la marina militare è stata una una grande rampa di lancio una palestra è stata una palestra si da noi in sicilia insomma dove abitavo io non era non era molto assortito diciamo che c'era ben poco quindi si si concentravano quasi tutti o sul calcio sulla quindi non c'era tanto spiraglio no no quindi ho approfondito questa cosa già nella nell'età adulta perché poi nel 2003 ho avuto un bruttissimo incidente in moto che mi ha permesso di ritornare a camminare dopo un anno ho letto che è stato un grave incidente che si è finito in coma giusto sì ok quindi ci sono stati tantissimi anni di stop fino a quando non ho ripreso le piene attività dopo che mi hanno tolto le protesi al bacino al femore alla spalla quindi un infortunio gravissimo un infortunio gravissimo sì sì un infortunio gravissimo che mi è costato tanto poi nove anni fa ho ripreso di nuovo ho avuto la fortuna che una delle squadre più importanti in italia che è il forma club gestita da uno dei preparatori più grandi al mondo che è franco sale donatella beretta mi hanno preso in squadra e da lì è entrato il percorso nella nazionale italiana è un percorso che è abbastanza giovane diciamo sì abbastanza sì no eppure direi che ti sei levato già tante tante soddisfazioni però prima di addentrarci nel discorso dei risultati delle tue esperienze sportive ti vorrei chiedere qual è il tuo lavoro cioè tu riesci a vivere solamente di questo sport o devi fare un lavoro no io no è un questa è una disciplina che è un po particolare e faccio il camionista ho la fortuna di lavorare in un'azienda leader nel mercato oggi che la genova trasporti intermodali la gt gestita dalla famiglia con lucini dove mi aiutano tantissimo nel proseguimento di questo sogno perché immagino sia difficile conciliare il tuo lavoro da camionista con gli allenamenti quante ore ti alleno al giorno e quanti giorni ti alleno allora mi alleno 4 5 volte al giorno mediamente la media di 4 4 ore e mezza al giorno quindi insomma super allenamenti intensissimi allenamenti pesanti sì che però riesco a conciliare con passione giusto per sfizio mio a che ore ti alzi al mattina a che ore vai a dormire e gli orari vanno dalle 4 alle 6 a volte anche alle 3 fino ad allenarmi anche spesso alle 9 di sera sono arrivato ad allenarmi e hai le forze per allenarti comunque beh quando ami qualcosa tanto tanto trovi le forze sì vabbè cavolo bene bene dai parliamo un attimo di risultati sportivi perché io mi sono un po' informato un po' su internet ho letto e ho visto che hai raggiunto traguardi importantissimi a livello nazionale 21 medaglia d'oro o forse 22 22 22 medaglia d'oro ma hai raggiunto anche il podio nei mondiali e hai vinto l'europea l'anno scorso sì è stato è stata un è stato diciamo io dico sempre che ci vuol tanta fortuna perché il giorno della gara è un giorno particolare insomma possono esserci tantissime cose tantissimi aspetti da guardare quindi io dico sempre ci vuole tanta preparazione ho la fortuna di essere seguito ripeto da da il meglio del professionismo e la fortuna di arrivare anche integro quel giorno lì quindi ho avuto la fortuna di prendere l'oro di specialità nell'alzata massima che è del powerlifting che è lo squat parliamo un secondo cosa vuol dire alzata massima cioè che gesto tecnico è squat allora noi abbiamo tre tre alzate suddivise da tre prova ciascuno che sono lo squat la panca e lo stacco ok si entra con una prova d'ingresso dove solitamente ci si dovrebbe riuscire benissimo stando attenti ai vari accorgimenti tecnici che sono la discesa del parallelo il fermo al petto la chiusura corretta quindi oltre allo sforzo fisico bisogna fare anche bisogna essere molto attenti al giusto movimento se no penalità ci sono delle penalità ti hai tre luci che devono essere bianche o due bianche una rossa e allora riesce a passare dipende anche la severità dell'arbitraggio ok invece ti faccio una domanda forse un po un po difficile di tutte le medaglie che hai vinto e quindi tutte le gare a cui hai partecipato qual è quella che ti è rimasta di più nel cuore quella a cui sei più affezionato se ti ricordi sì io beh sono ogni medaglia insomma è un ricordo particolare ecco le più importanti sono quelle che sono stato insieme alla mia famiglia quando ci sono i miei bimbi mia moglie insomma che è il motore di tutta questa passione di tutto questo proseguimento sì ho la grande fortuna di avere una grandissima donna a fianco che mi aiuta insomma anche lei nello sport che io conosco e posso confermare senza di lei non sarebbe possibile quanto conta lei nella tua vita in questo sport? il 70% il 20 poi stasera non mangiavi quindi devi essere obbligato a vedere 70% no 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 è tantissimo 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 perché c'è una preparazione che è difficilissima nell'alimentazione nel gestire con una persona come me che dipende tantissimo da Tamara anche nei movimenti dove i miei allenatori insomma fanno conto perché sono un po' testone e allora Tamara mi corregge tanto ok bene bene grande 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 Michele ora ho visto che ti sei mi si può dire hai raggiunto il minimo per andare agli europei quindi sei pronto per partire dove saranno? saranno in Francia ad Albi iniziano i primi di febbraio fino al 14 dove ci sarà il 14 dove gareggiano dove entrano i pesi massimi super massimi che è la oltre 120 io ho la fortuna di far parte con immenso amore della oltre 120 e gareggerò al mattino nella tarda mattinata dovrebbe essere ok tocchiamo ferro ma qual è il tuo sogno? allora il mio se vuoi toccarti nessuno si affena no 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 vabbè il mio più che sogno è desiderio grandissimo e non farmi male ok e migliorare cioè io faccio questo con tantissimo amore non ho è ovvio che il primo posto il podio fa piacere fantastico però quello che più ambisco io è in quello che posso trasmettere ai miei figli cioè nonostante tutto essere ad esempio sì nonostante il lavoro nonostante tutte le fatiche ecco comba a credere nei sogni ecco grande grande Michele dai chiudiamo in bellezza obiettivi per il futuro quando smetterai di gareggiare tra cent'anni? cosa farai? beh mi piacerebbe tantissimo potermi dedicare completamente nella piena attività sportiva dei miei figli poter fargli raggiungere i propri sogni e poter trasmettere la mia passione la mia esperienza ai giovani a chi vorrà domanda ultima domanda in estremis i tuoi figli che sport fanno? allora c'ho Sara che ha fatto un lungo percorso nel nuoto adesso ha dovuto interrompere per un po' di problematiche insomma fisiche si è messa in parte anche nel powerlifting dove ha raggiunto nel suo piccolo comunque sui risultati quindi segue le orme del papà e ora è impegnata per un importante percorso che sarà la scuola dove lei sogna di diventare un ufficiale della marina militare Gabriele invece è un ciclista è un ciclista è uno scalatore è fortissimo allora lo devo conoscere assolutamente il suo sogno sono le olimpiadi e non gli dirò adesso io lo dirò poi più là che anche sarebbe il mio sogno vederlo nelle olimpiadi che bello insieme magari tra l'altro stasera mi ha detto una cosa bellissima mi ha detto quando papà se ci riuscirò mi farebbe piacere dire che sei stato il mio esempio quindi questa forse è la medaglia più bella questa è stata la medaglia più bella che ho preso Michele io ho una chiusura più bella di questa penso che non ce l'avevo in testa grazie a te Rollo che sei una persona meravigliosa Michele ti ringrazio grazie della tua disponibilità nel tuo tempo ti ringrazio per la persona che sei io auguro a tutti di incontrare una persona come Michele che trasmette questa passione questa energia quindi io spero che questa puntata vi sia piaciuta se sì mettete un bel mi piace condividete il video iscrivetevi al canale e che dire alla prossima alla prossima ciao Michele ciao